Tiziano Ferro Dopo essere stato assolto dalle accuse per evasione fiscale di circa 3 milioni di euro, l'uomo è tornato sorridente ed ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fans, che lo continuano a sostenere sui suoi vari social network Nonostante tutto, scopriamo cosa ha fatto e qual è stata la reazione dei diretti interessati Un regalo speciale Anche quest'anno sono quasi terminate le vacanze natalizie e Tiziano Ferro, nonostante fosse influenzato e con un bruttissimo mal di gol, ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che nonostante i suoi periodi bui non l'hanno mai abbandonato Grazie all'internet e ai suoi social network, il cantante italiano ha deciso di cantare con la sua voce e il suo stile inconfondibile una canzone per tutti quelli che amano la sua musica Sulle notte di Perfect di Ed Seheran, attraverso un video ha improvvisato un mini concerto con un bel pigiamone rosso in vista, un gesto, che non è passato inosservato ai suoi fans, i quali hanno deciso di ringraziarlo a modo loro La reazione dei fans Il video del mini concerto di Tiziano Ferro ha sfiorato in poco tempo più di 50.000 visualizzazioni e 18.000 condivisioni, ma soprattutto sono stati oltre 6.000 commenti dei ringraziamenti da parte dei suoi fans Una bella risposta al grande gesto del cantante, il quale è stato gratificato per il suo sforzo ed il suo pensiero per tutti coloro che lo amano Non è stato facile, ma il mal di gola non mi ha fermato, grazie per aver scelto questa meravigliosa canzone ha scritto il ragazzo sulla sua pagina ufficiale di Facebook Il quale ha fatto emozionare tutti con il suo tono di voce e la magnifica canzone di Ed Seheran Questo regalo sembra essere diventato una sorta di tradizione, poiché Tiziano anche l'anno scorso ha cantato in accappatoio la famosa canzone All I Want For Christmas Is You di Maria Carey Canzoni non scelte a caso, dato che sono i suoi fans a richiedergli di poter ascoltare una determinata canzone scelta da loro Un gesto davvero simpatico, vero? Anche la sua collega Laura Pausini ogni anno organizza una cena con tutti i suoi collaboratori e regala loro uno spettacolo sonoro impeccabile, tanto da farà capponare addirittura la pelle Li rivedremo presto sul grande pacco scenico, oppure decideranno di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo? Anche la sua collega Anche la sua collega Grazie a tutti. Grazie a tutti.